Le meraviglie del Parco archeologico di Pestum sono state protagoniste del programma di approfondimento culturale di Rai 2 Top Tutto Quanto Fa Tendenza. Ad accompagnare i telespettatori in un'affascinante visita virtuale, la direttrice del Parco archeologico di Pestum e Vella, Tiziana D'Angelo, che ha magistralmente condotto il viaggio nel cuore del Parco Nazionale del Cilento Vallodidiano e Alburni attraverso la scoperta dei tre templi dolici del Museo archeologico. Ciò che più supisce di un sito storico archeologico di un'indescrivibile bellezza è la possibilità che concede ai suoi visitatori di attraversare un mosaico di culture, così lo ha definito la direttrice d'Angelo, che va dalla tomba dell'eroe fondatore della colonia greca di Poseidonia all'anfiteatro romano, sino alle meravigliose tombe dipinte di derivazione lucana.